Do you wanna know a secret? Do you wanna know a secret? se stelle serve il Metal Mimic. Come serve il Metal Mimic? Per Raiden, Ramna e Haliut. E poi ovviamente anche per Lunaris e via dicendo. Ci fanno questo regalo perché ora per ora non si possono prendere il Metal Mimic e lo metteranno nel dungeon del mercoledì. Faranno come il global che si prende nel primo e nel secondo livello, non lo so. Comunque da mercoledì mettono i Metal Mimic nel dungeon del Metal Mimic. Io non li prendo perché sono pieno nelle unità. Ma comunque vanno alle ciance. Andiamo nelle unità, evoluzione. Andiamo giù 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 a prenderci il nostro bellissimo Imata spiumato e a farlo diventare a 5 stelle in un luccicante Metal Mimic. Che poi è Imatas Metallico. Com'è di nuovo? Ok, ora andiamo a evolvere subito non ce la faccio più. Lubrodine, giusto? No, Si chiama Labrodine che poi diventa Liorone. Ed eccola qua! Allora, un pot di luce. un totem di luce un idolo di luce un totem dei miracoli e l'immatas metallo oh mio dio ragazzi mi divertirò a farmi andare su per adesso sperando spero che salga in fretta guidiamoci la tutta l'evoluzione la bestia che vive in me si è svegliata lascia che ti mostri la mia forma autentica 4004, 145 1323 1588 moto leorone ah avevo il breve livello 5 quindi è il breve livello 2 allora il brave il leader è aumenta il danno dello spark del 50% e la produzione di cristalli da battaglia del 20 o del 30% e aumenta molto i valori attacco e difesa rec di figli alleati il brave cioè li aumenta del 60 al 70% mentre il super fa 10 colpi e aumenta attacco e difesa rec del 70% quindi in teoria è un'unità da a portare dal super brave bar sta 10 se volete la il miglioramento delle statistiche completo io direi di provarla sta da zebra mettiamola in prima squadra voglio vederla qua nel gioco è enorme so che sei enorme allora lei è un supporter al brave bar da supporter quindi dovete prendere le vostre unità o nelle terre brulle di Ascut oppure se vi va bene le mandragore nella foresta notturna a Morgan o se no a Mystery andate nelle palude di Magutagal e se vi va bene la foresta delle bestie anche se forse è meglio Morgan per tutto si è già 6 no 5 abbiamo jamma 0-0 dai 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 voglio vederlo voglio vedere com'è che poi è utile diciamo solamente con il super perché attacca se no è quasi inutile quasi vabbè però mentre nel leader è carino nel durante il front round però quando mi mettono l'odina 6 stelle non c'è leader che tenga però devo fare la squadra eh eh lì quanto è bella la tigre vediamo un attimino ancora un attimo un attimo un attimo un attimo voglio vedere se non mi crasha il gioco e metto gli come si chiama gli effetti spero che non mi crashi non mi crashare ti prego non mi crashare non mi crashare ok vediamo com'è l'attacco eh vediamo il brave vediamo un attimo il brave velocemente ok il brave è fatto ok potenziano attivamente il valore di attacco difendente tutti gli reti per triturne vediamo il brave l'urlo della bestia ah il re che è verde uh le piume che bello ah giusto niente niente ragazzi questa qua era il video il video meno male che c'è del video il video che ci hanno regalato le cose per far evolvere fare metal mimic così io finalmente tra poco tra un bel po' manderò avanti lei questa ragazza la devo mandare a 5 poi la porto al massimo la mando a 6 eh già niente ragazzi per oggi è tutto ditemi voi quale unità avete fate qualvera 6 e se qualcuno ha tesla anima o guardiano a 6 buon per lui perché vi servirà per fare maxwell va bene ragazzi ciao a tutti ciao a tutti